Il market timing è adatto ai fondi comuni di investimento? Se io ho un fondo in portafoglio da uno o più anni e il mercato cambia direzione, so cosa fare? I produttori ci vorrebbero ovviamente sempre investiti, ma esiste come sempre una buona via di mezzo. Questo video nasce proprio dal fatto che quotidianamente ci confrontiamo con tante persone che entrano in contatto con il rendimento a fondi per la prima volta e a nostro malgrado abbiamo scoperto che ancora oggi è fortemente diffusa e radicata l'idea secondo la quale i fondi comuni di investimento si comprano e si tengono perché i fondi sono strumenti nati per generare valore nel lungo periodo. Oppure ancora qualcuno ci dice che il Trendycator è un trading system, quindi funziona solo per le azioni e ci chiedono magari se abbiamo qualcosa di più lento, qualcos'altro per i fondi comuni di investimento. Ribadisco che il Trendycator è stato pensato proprio per adattarsi alle dinamiche dei fondi comuni di investimento, non è trading, ma lo vedremo meglio con qualche esempio sul finire di questo video. Sfatiamo dunque insieme alcune credenze popolari che ancora oggi alleggiano intorno al mondo dei fondi comuni di investimento. La domanda che io pongo sempre a chi mi fa queste osservazioni è sempre la stessa. Compro e tengo? Sì, ma fino a quando? Ecco alcuni degli errori più comuni che tendiamo a compiere quando abbiamo un qualcosa in portafoglio e non sappiamo come venderlo. Vendere quando si sta guadagnando il 50% e il mercato continua a salire è una cosa che spiace, vero? Vendere al 100%? Dai che si può fare di più! Vendere quando torna all'80%? È solo un calo momentaneo. Vendere quando torna al 50%? Dai che tanto torna su! Vendere quando torna a zero? Manco morto? Vendere in perdita? Dai che prima o poi sale! Tanto comunque adesso non ho bisogno di quei soldi, quindi posso anche aspettare magari qualche annetto. Pensi che a te tutto questo non capiterà mai? Invece purtroppo a me è capitato. Anzi, Trendy Keter nasce proprio dall'esigenza di colmare una mancanza di autocontrollo delle mie emozioni. Ci tengo quindi davvero a sottolineare ancora una volta, soprattutto per chi ci conosce da poco tempo, che RendimentoFondi è stato il primo sito in Italia a introdurre il concetto di timing nei fondi comuni di investimento. Poi ovviamente in seguito abbiamo esteso il Trendy Keter anche agli ETF e anche alle azioni. RendimentoFondi quindi nasce proprio per dare una risposta concreta a tutti questi bias mentali, chiamiamoli così, che da sempre paralizzano chi deve vendere. Sì, perché ovviamente comprare è molto più facile. Poi comprare sbagliato è ancora più facile. Vendere invece non è di fatto difficile, ma sicuramente è più complicato. Perché implica il fatto di doversi sbarazzare di un qualcosa che fino a questo momento ci ha reso dei soldi e in un qualche modo sentiamo come nostro. Sfatiamo dunque un altro mito. È possibile vendere sui massimi? Ovviamente no! Però una cosa senza dubbio è vera. RendimentoFondi non ha mai propinato a nessuno questa falsa credenza. Anzi, tutt'altro, noi in tutti i nostri video, con pochissima propensione al marketing, ribadiamo costantemente esattamente il contrario. E qui si incastra la terza credenza popolare. Solitamente leggiamo che gli investitori che scelgono di investire secondo un timing preciso, si basano unicamente sulle proprie intuizioni e sulle proprie conoscenze in materia finanziaria per provare ad indovinare il momento giusto per investire o disinvestire. Praticamente ci dipingono come fossimo tutti degli sciocchi con il pendolino che tentiamo di indovinare cosa farà la borsa domani mattina. In realtà il Trendycator è semplicemente un modello matematico, un indicatore denominato Trend Following. E come tale è normale che lasci sempre una fetta di rialzo iniziale e una fetta soprattutto del finale anche. Queste sono quelle porzioni di guadagno che ci sta bene lasciare agli altri che fanno i fenomeni. Ricorda che il mercato fa sempre e solo cosa vuole. E quindi facilmente comprensibile il concetto che se io voglio incappare in un numero minore di falsi segnali, di falsi ingressi, qualcosa devo per forza lasciare al mercato. Esattamente devo lasciare quella porzione di investimento iniziale e finale necessaria per far capire all'algoritmo che è davvero iniziato un movimento strutturalmente diverso dal precedente. Ma quindi tu ti chiederai questo algoritmo ma che risultati dà? Noi amiamo comunque metterci sempre la faccia e lo facciamo tutti gli anni nel bene e nel male. Quindi ti invito a leggere gli articoli di cui ti metterò il link in descrizione nei quali a metà 2021 abbiamo appunto fatto le pulci ai nostri portafogli modello. Lo facciamo tutti gli anni. Ci piace sempre metterci in chiaro nei confronti dei nostri lettori senza timore pubblicando l'andamento dei nostri portafogli come se fosse il bilancio pubblico di un'azienda. E lo faremo anche a gennaio dove andremo a fare il riepilogo dei portafogli del 2021. Per capirci ancora meglio facciamo adesso un esempio pratico. E lo facciamo utilizzando il Franklin Technology. Oggi da quando il Trendycator è in posizione ha già guadagnato il 140%. Ma davvero noi pensiamo che non scenderà mai? E se capitasse come nel 2008 che il fondo è stato per tre anni in drawdown, chi ci ripaga di questi tre anni di tempo perso? Certo, non sono uno sciocco. So benissimo che il fondo è uno dei migliori e che il settore è molto forte e quindi prima o poi sicuramente il fondo tornerà sui massimi. Ma è anche vero che tre anni passati a guardare gli altri settori andare meglio sono comunque tre anni profondamente frustranti. Se anche a te dunque è capitato di trovarti in questa situazione e non sapere cosa fare con i tuoi investimenti, smetti di pensarci, vieni su RendimentoFondi e attiva la tua settimana di prova gratuita. In questa settimana potrai provare tutte le rubriche di RendimentoFondi, tutti quei tool informatici che RendimentoFondi mette a tua disposizione per diventare un investitore informato e consapevole. Vieni dunque a provarci su RendimentoFondi.it